Leo. A Fros assomigliava a suo fratello, solo che era blu invece che verde e molto, molto più grosso. Aveva gli addominali e le braccia di Arnold Schwarzenegger in Terminator e una testa squadrata da bruto. Portava un'enorme spada alla Conan legata sulla schiena. Anche i capelli erano più grossi, un enorme globo di ricci nero-blu talmente folti che i corni di d'Aragosta sembravano affogare nel tentativo di affiorare in superficie. «È per questo che ti chiami a Fros?» domandò Leo mentre scivolavano lungo il sentiero all'uscita della grotta. «Per via dei capelli afro?» A Fros sagrottò la fronte. «Che vuoi dire?» «Niente», si affrettò a rispondere Leo. Almeno così non avrebbe avuto difficoltà a distinguere i due fratelli. «Allora cosa siete di preciso?» «Ittio centauri», rispose a Fros, come se fosse una domanda a cui era stufo di rispondere. «Etto che cosa?» «Pesci centauro. Siamo fratellastri di Chirone». «Oh, è un mio amico!» A Fros socchiuse gli occhi. «Se l'ha detto la ragazza che si chiama Hazel, ma stabiliremo la verità. Ma andiamo!» A Leo non piacquero quelle parole. «Stabiliremo la verità». Gli vennero subito in mente le ruote della tortura e gli attizzatori arroventati. Seguì il pesce centauro in una enorme foresta di alghe. Avrebbe potuto schizzare via e perdersi tra le piante senza grosse difficoltà, ma non ci provò. Tanto per cominciare, immaginava che a Fros viaggiasse molto più velocemente di lui nell'oceano. E poi quel tizio avrebbe potuto spezzare l'incantesimo che gli permetteva di muoversi e respirare. Dentro o fuori dalla grotta erano comunque prigionieri. E non avevano la minima idea di dove si trovassero. Leo fluttuò tra file di alghe alte come condomini. Piante giallo-verdi ondeggiavano senza peso, come colonne di palloncini gonfiate a elio. In alto scorse una chiazza di bianco che avrebbe potuto essere il sole. Intuì che avevano trascorso lì la notte. Largo 2 era ancora in buone condizioni. Gli altri avevano continuato a navigare senza di loro, oppure li stavano ancora cercando. Leo non sapeva neppure a quale profondità si trovassero di preciso. Ci crescevano delle piante, quindi non erano troppo in profondità, giusto? Però capiva che raggiungere la superficie a nuoto era impossibile. Aveva sentito dire di persone che erano risalite troppo velocemente e avevano sviluppato bolle di azoto nel sangue. Voleva evitare di avere il sangue gassato. Continuarono a fluttuare per quasi un chilometro. Leo ebbe la tentazione di domandare ad Afros dove lo stesse portando, ma la grossa spada sulla schiena del centauro funzionò come deterrente. Finalmente la foresta di alghe si aprì. Il figlio di Efesto rimase senza fiato. Erano sulla cima di un alto colle sottomarino. Sotto di loro, sul fondo del mare, si stendeva un'intera città di edifici in stile antica Grecia. I tetti erano rivestiti di madreperla. I giardini erano pieni di coralli e anemoni di mare. Una squadra di ciclopi stava sistemando un tetto a cupola su un nuovo tempio, utilizzando una baranotter azzurra come gru. I pocampi brucavano in un prato di alghe marine. E a nuotare tra le strade, a bighellonare nei cortili, ad allenarsi nella lotta con i tridenti e con le spade nell'arena, c'erano dozzine di tritoni e sirene, per metà pesci e per metà uomini e donne. Leo aveva visto tanta roba strana in vita sua, ma aveva sempre creduto che tritoni e sirene fossero creature immaginarie, carine e un po' sciocche, come i Puffi e i Muppets. Ma quegli esseri marini non avevano niente di sciocco né di carino. Anche da lontano sembravano feroci e per niente umani. I loro occhi scintillavano di giallo, avevano denti da squalo e una pelle coriacea di vari colori, dal rosso corallo al nero pece. «È un campo di addestramento», si rese conto Leo. Guardò Afros con timore reverenziale. «Addestrate gli eroi, come fa Chirone?» Afros annui. Un barlume di orgoglio gli illuminò lo sguardo. «Abbiamo addestrato tutte le sirene e i tritoni più famosi. Nomina un eroe del mare e di sicuro lo abbiamo addestrato qui». «Oh, certo», disse Leo scervellandosi. «E tipo Ariel, la sirenetta?» «Chi?» Afros aggrottò la fronte. «Ma no, pensa a Tritone, a Glauco, a Johnny Weissmuller e a Bill!» «Leo non aveva la minima idea di chi fossero. Avete addestrato Bill?» «È pazzesco!» «Esatto!» Afros si batté sul petto. «Bill l'ho addestrato io, personalmente. Un tritone strepitoso!» «Insegni combattimento, immagino». Afros sollevò le mani per l'esasperazione. «Perché pensano tutti la stessa cosa?» Leo lanciò un'occhiata all'enorme spada sulla schiena del pesce cavallo. «Eh, non saprei!» «Insegno musica e poesia!» esclamò Afros. «Psicologia! Economia domestica! Sono importanti per gli eroi!» «Indispensabili!» Leo tentò di rimanere serio. «Cucito? Pasticceria?» «Esatto! Sono felice che tu mi capisca. Forse dopo, se non dovrò ucciderti, ti darò la ricetta dei brownies!» Afros indicò dietro di sé con disprezzo. «Mio fratello Bitos! Lui insegna combattimento!» Leo non sapeva se sentirsi sollevato o offeso che l'allenatore di combattimento stesse interrogando Frank mentre a lui era toccato l'insegnante di economia domestica. «Bene, fantastico! E questo è il... come lo chiamate? Campo mezzo pesce?» Afros si accigliò. «Stai scherzando, spero! Questo è il campo...» emise un suono formato da una serie di impulsi sonare sibili. «Che sciocco che sono!» commentò Leo. «E sai una cosa? Mi andrebbero proprio un po' dei tuoi brownies! E cosa dobbiamo fare per arrivare alla fase in cui decidi di... non uccidermi? Raccontami la tua storia!» disse Afros. Leo esitò, ma non a lungo. In qualche modo percepì che doveva dire la verità. Cominciò dall'inizio. Aveva avuto come babysitter era, che lo metteva sempre tra le fiamme. E sua madre era morta per colpa di Gea, che aveva individuato in Leo un futuro nemico. Poi raccontò di come avesse trascorso l'infanzia passando da una famiglia affidataria all'altra, finché lui, Jason e Piper, non erano stati presi al campo mezzo sangue. Gli illustrò la profezia dei sette, la costruzione del Largo 2, e la loro missione per raggiungere la Grecia e sconfiggere i giganti, prima del risveglio di Gea. Mentre Leo parlava, Afros estrasse dalla cintura alcune punte di metallo che sembravano molto pericolose. Leo temette di aver detto qualcosa di sbagliato, ma il pesce cavallo tirò fuori del filo di algamarina dalla borsa e cominciò a lavorare a maglia. «Vai avanti», lo esortò, «non ti fermare». Quando Leo gli ebbe spiegato degli eidolon, del problema con i romani e dei guai che aveva avuto Largo 2 ad attraversare gli Stati Uniti e a salpare da Charleston, Afros aveva già finito una cuffietta da bambino. Il figlio di Efesto aspettò che il pesce centauro mettesse via i suoi strumenti. I corni a forma di chela di Aragosta continuavano ad agitarsi come dei disperati nella sua fitta chioma e Leo dovette resistere alla tentazione di salvarli. «Molto bene», commentò Afros. «Ti credo». «Tutto qui?» «Sono molto bravo a riconoscere le bugie. Tu non ne hai dette». «La tua storia corrisponde anche a quello che ci ha raccontato Hazel Levec». «Dov'è? Come sta?» «Sta bene. La mia gente la porterà qui tra poco», rispose Afros. Poi si avvicinò le dita alla bocca e fischiò. Era un suono strano sott'acqua, come il grido di un delfino. «Il luogo in cui viviamo è un segreto custodito con molta cura. Tu e i tuoi amici siete apparsi su una nave da guerra, inseguiti da uno dei mostri di Ceto. Non sapevamo da quale parte steste. La nave è a posto? Ha dei danni, ma niente ed irrimediabile. La scolopendra si è ritirata dopo un bel boccone di fuoco. Bella mossa! Grazie. La scolopendra? Non ne avevo mai sentito parlare. Ritieniti fortunato. Sono creature perfide. Ceto deve proprio odiarvi. In ogni caso, abbiamo liberato te e gli altri due dai tentacoli di quella creatura mentre ritornava negli abissi. I tuoi amici sono ancora di sopra e vi stanno cercando. Noi però gli abbiamo oscurato la vista. Dovevamo assicurarci che non foste una minaccia. Altrimenti avremmo dovuto… prendere provvedimenti. Leo deglutì. Era piuttosto sicuro che prendere provvedimenti non significasse infornare altri brownies. E se quei tizi erano così potenti da riuscire a tenere nascosto il loro campo a Percy e ai suoi poteri simili a quelli di Poseidone, era meglio non avere problemi con loro. Possiamo andare? Tra poco, lo rassicurò a Fros. Devo verificarlo con Bitoss. Quando avrà finito di parlare con Gank… Frank. Quando loro avranno concluso, vi rimanderemo sulla nave. E magari avremo dei consigli da darvi. Consigli? Ah, ecco. A Fros indicò qualcosa. Eisel emerse dalla foresta di Alg, scurtata da due sirene e dall'aria piuttosto feroce che si bilavano mostrando le zanne. Leo pensò che Eisel potesse essere in pericolo. Poi vide che era completamente a suo agio, sorrideva e parlava con le proprie accompagnatrici e notò che le sirene stavano ridendo. «Leo!» Eisel nuotò verso di lui. «Non è fantastico questo posto?» Furono lasciati soli sul crinale e ciò significava che a Fros si fidava davvero di loro. Mentre il centauro marino andava a prendere Frank, seguito dalle sirene, Leo e Eisel fluttuarono sopra la collina e ammirarono il campo. Eisel raccontò come le sirene si fossero dimostrate subito cordiali nei suoi confronti. A Fros e Bitoss erano rimasti affascinati dalla sua storia, dato che non avevano mai conosciuto una figlia di Plutone. E per di più, avevano sentito tante leggende su Arion ed erano strabiliati dal fatto che lei fosse riuscita a diventarne amica. Eisel aveva promesso che sarebbe tornata a trovarli con Arion. Le sirene le avevano scritto il loro numero di telefono su un braccio con l'inchiostro idrorepellente, così Eisel avrebbe potuto chiamarle. Leo non volle neppure sapere come facessero le sirene a ricevere il segnale in mezzo all'Atlantico. Mentre Eisel parlava, i capelli le fluttuavano intorno al viso in una nube, come polvere di terra e pepite nella scodella di un cercatore d'oro. Era molto sicura di sé e molto bella. Non sembrava affatto la ragazza timida e nervosa nel cortile della scuola di New Orleans, con la sacca del pranzo spiaccicata ai piedi. «Non abbiamo avuto modo di parlarne», disse Leo. Era restio a tirare fuori quel discorso, ma sapeva che poteva essere la loro unica occasione di stare da soli. «Intendo dire… di Sammy». Il sorriso di Eisel si spense. «Lo so, ho solo bisogno di un po' di tempo per digerire la faccenda. È strano pensare che tu e lui…» Non era necessario che finisse la frase. Leo sapeva perfettamente quanto fosse strano. «Non sono sicura di riuscire a spiegarlo a Frank», aggiunse Eisel. «Di te e me che ci tenevamo per mano». Non voleva incrociare lo sguardo di Leo. In fondo alla valle, la squadra dei ciclopi esultò quando il tetto del tempio fu collocato al suo posto. «Ci ho pensato io», disse Leo. «Gli ho assicurato che non stavo cercando di… beh, di creare problemi tra voi due». «Oh, bene!» Era delusa? Leo non era sicuro. Ne era sicuro di volerlo sapere. Frank sembrava parecchio fuori di testa quando ho evocato il fuoco. Leo raccontò quello che era successo nella grotta. Eisel era turbata. «Oh no! Chissà come si sarà spaventato!» Infilò distinto una mano nel giubbotto di jeans, come per controllare qualcosa nella tasca interna. Portava sempre quel giubbotto o qualcosa da mettere sopra la camicia, anche quando faceva caldo. Leo aveva pensato che lo facesse per pudore o perché era più comodo per andare a cavallo, come fosse un giubbotto da motociclista. Ma cominciò ad avere dei dubbi. La sua mente partì in quarta. Gli tornò in mente quello che Frank gli aveva raccontato sul proprio punto debole. Un pezzetto di legno. Pensò al motivo per cui quel ragazzo aveva paura del fuoco e al motivo per cui Eisel era così pronta a comprenderlo. Pensò ad alcune storie che aveva sentito al campo mezzosangue. Per ovvie ragioni, tendeva a prestare attenzione alle leggende sul fuoco. E in quel momento gliene tornò in mente una, a cui non ripensava da mesi. «C'è una vecchia leggenda su un eroe», disse. «La sua linea della vita è legata a un pezzo di legna da ardere». E quando quel pezzo di legno brucia, l'espressione di Eisel si incubì. «Leo seppe di aver scoperto la verità». «Frank ha lo stesso problema, vero?» E il pezzo di legno indicò il giubbotto di Eisel. «Lo ha dato a te perché tu glielo custodisca». «Leo, per favore, non posso parlarne». L'istinto da meccanico di Leo entrò in azione. Cominciò a pensare alle proprietà del legno e alla corrosività dell'acqua salata. Il legno non corre rischi a stare così nell'oceano? Lo strato di aria intorno a te lo protegge? «È tutto a posto», disse Eisel. Si morse un labbro per la frustrazione. «E poi non dovrei parlarne. Il punto è che, se Frank sembra impaurito da te o agitato, devi capire che…» Leo fu contento di galleggiare, perché probabilmente non ce l'avrebbe fatta a rimanere in piedi, visto quanto era frastornato. Immaginò di trovarsi nella situazione di Frank, con una vita così fragile che avrebbe potuto bruciare, letteralmente, da un momento all'altro. Immaginò quanta fiducia occorresse per affidare la propria vita, il proprio destino, a un'altra persona. Frank aveva scelto Eisel. Per cui, quando aveva visto Leo, uno che poteva evocare il fuoco a suo piacimento, che ci provava con la sua ragazza, Leo rabbrividì. Ovvio che non stava simpatico a Frank. E all'improvviso, la capacità di Frank di trasformarsi in un mucchio di animali diversi non gli sembrò più una cosa strepitosa, visto che era accompagnata da una trappola come quella. Ripensò al verso che gli piaceva meno della profezia dei sette. Fuoco, tempesta, il mondo cader faranno. Per un lungo periodo aveva immaginato che la tempesta indicasse Jason e Percy, magari tutti e due insieme. Il fuoco, invece, rappresentava proprio... Sono io il fuoco, si disse. Nessuno lo diceva, ma era piuttosto chiaro. Leo era una delle incognite. Se avesse fatto la cosa sbagliata, il mondo poteva cadere. No, doveva cadere. Il figlio di Efesto si domandò se Frank e il suo pezzo di legno avessero qualcosa a che vedere con quel verso. Aveva già commesso degli errori madornali, ricordò. Per lui sarebbe stato facilissimo dare fuoco a Frank Zhang per sbaglio. «Eccovi qua!» La voce di Bitos lo fece trasalire. I due fratelli Pesci Centauro si avvicinarono fluttuando. Frank era in mezzo a loro, pallido ma tranquillo. Scrutò con attenzione Hazel e Leo, come se tentasse di capire di cosa avevano parlato. «Siete liberi di andarvene!» continuò Bitos. Apri la bisaccia e restituì gli oggetti confiscati. Leo non era mai stato così felice di riallacciarsi la cintura degli attrezzi. «Dite a Percy Jackson di non preoccuparsi», intervenne Afros. «Abbiamo saputo delle creature marine imprigionate ad Atlanta. Sueto e Forco vanno fermati. Manderemo una pattuglia di tritoni a sconfiggerli e a liberare i prigionieri. Forse Cyrus? Oppure Bill?» propose Bitos. «Sì, Bill sarebbe perfetto», concordò Afros. «In ogni caso, siamo grati che Percy abbia portato la faccenda alla nostra attenzione». «Dovreste parlarne con lui personalmente», suggerì Leo. «Insomma, è figlio di Poseidone e via dicendo». I Pesci Centauro scossero la testa in modo solenne. «A volte è meglio non avere a che fare con la progenie di Poseidone», spiegò Afros. «Siamo ben disposti nei confronti del dio del mare, ovviamente, ma la politica delle divinità sottomarine è complicata. E ci teniamo alla nostra indipendenza. Nonostante ciò, ringraziate Percy. Faremo il possibile per accelerare il vostro viaggio nell'Atlantico senza che vi siano ulteriori interferenze da parte dei mostri di Ceto. Ma fate attenzione. Nel mare antico, il mare Nostrum, vi attendono altri pericoli». Frank sospirò. «E ti pareva?» Bitos gli diede una pacca sulla spalla. «Te la caverai, Frank Jung. Continua ad allenarti con le trasformazioni in animali marini. La Carpacoi va bene, ma prova la Fisalia Fisalis, detta anche carabella portoghese. Ricordati quello che ti ho fatto vedere io. Il segreto è nella respirazione». Frank era imbarazzatissimo. Leo si morse un labbro per non sorridere. «E tu, Hazel, torna a trovarci e porta con te il tuo cavallo», disse Afros. «So che sei turbata per il tempo che avete perso, trascorrendo la notte nel nostro regno. Sei preoccupata per tuo fratello, Nico». Hazel impugnò la spada. «Sapete dov'è?» Afros scosse la testa. «Di preciso no, ma quando sarai più vicina dovresti essere in grado di percepirne la presenza. Niente paura, dovrete raggiungere Roma dopodomani se volete salvarlo. Ma c'è ancora tempo. E dovete salvarlo!» «Sì», concordò Bitos. «Nico sarà essenziale per il vostro viaggio. Non so bene come, ma sento che le cose stanno così». Afros piantò una mano sulla spalla del figlio di Efesto. «Quanto a te, Leo Valdés, stai vicino a Hazel e Frank quando raggiungerete Roma. Sento che affronteranno problemi meccanici che solo tu puoi risolvere». «Problemi meccanici?» Afros sorrise come se fosse una notizia fantastica. «Ho dei regali per te, coraggioso ufficiale di rotta del Largo 2!» «Mi piace pensarmi come capitano», precisò Leo. «O comandante supremo?» «Ecco i miei famosi brownies», annunciò tutto orgoglioso Afros, mettendo tra le braccia di Leo un cestino da picnic. Era circondato da una bolla d'aria che presumibilmente avrebbe impedito ai brownies di trasformarsi in una poltiglia zuccherosa impastata con l'acqua salata. Nel cestino trovi anche la ricetta. Non troppo burro, mi raccomando, è questo il segreto. E ti ho messo anche una lettera di presentazione per Tiberino, il dio del Tevere. «Una volta arrivati a Roma, la vostra amica figlia di Atena ne avrà bisogno!» «Annabeth? Perché?» «Deve cercare il marchio di Atena, no?» Tiberino può guidarla nella sua impresa. «È un dio antico e orgoglioso. Averci a che fare non è sempre facile, ma le lettere di presentazione sono importantissime per i romani. Questa lo convincerà ad aiutarla. Speriamo!» «Speriamo!» ripete Leo. Bitos estrasse tre piccole perle rosa dalla bisaccia. «E adesso partite, semidei! Buon viaggio!» Lanciò una perla ciascuno e intorno ai ragazzi si formarono tre scintillanti sfere di energia rosa. Cominciarono a salire attraverso l'acqua. Leo ebbe appena il tempo di pensare «un ascensore a forma di palla per criceti?» Poi acquisì velocità e sfrecciò come un razzo verso il bagliore lontano del sole in superficie.